Salve a tutte amiche che seguite in tantissimi del mio blog coccinelecreative.blogspot.it e che mi seguite anche in tantissimi del mio canale youtube e sul sito coccinelecreative.com Oggi in questo video vi mostro una mia creazione dedicata ai bambini, come potete vedere Sono delle piccole scarpine realizzate a uncinetto in stile Nike Vedete il baffo Nike Tra l'altro c'è ai lati, come potete vedere, e anche sul davanti Cosa ne pensate? Non sono veramente carine, simpatiche e diverse dal solito Ora vi mostro l'occorrente per realizzare Allora, ovviamente queste scarpine sono state realizzate interamente in cotone Quindi ho utilizzato il gomitolo nero Numero 5 E poi il gomitolo rosa Sempre numero 5 Il tutto l'ho lavorato con l'uncinetto 1.5 Inoltre vi servirà un paio di forbi, le classiche forbicine da ricamo E l'agua cruna larga Eccolo qui Questo è l'occorrente che ho utilizzato per realizzare le mie scarpine Come potete vedere inoltre La suola ovale E l'ho realizzata in un altro colore Sempre in cotone Quindi per realizzare la suola Ho utilizzato il gomitolo Color sabbia, diciamo Marroncino, sabbia Sempre numero 5 Eccolo qui Sono davvero diverse dal solito E molto simpatiche Cosa ne pensate? Per maggiori informazioni Visitate E per vederle anche da vicino In foto Eccetera eccetera Visitate il mio blog O il mio sito E nella sezione scarpette Troverete queste scarpette E altre E anche altre scarpette In stile adidas Converse Anche scarpine estive Invernali Quindi sandaletti O stivaletti Insomma tante scarpine Ovviamente solo realizzate a mano E con ottimi materiali Visitate il mio blog E il mio sito A presto Al prossimo video Ciao ciao